Come è cambiato il modello di business in chiave assicurativa per AXA grazie all'innovazione? Per AXA l'innovazione è cambiare radicalmente il modo di essere percepiti dal cliente, l'esperienza che il cliente ha nel momento in cui si avvicina a un'assicurazione. Non vogliamo essere più percepiti solo come dei bravi liquidatori, ma ci piacerebbe costruire per i nostri clienti un ecosistema di aiuto, di supporto sia nei momenti difficili della vita che anche nell'attività quotidiana e questo programma lo chiamiamo passare da payer a partner. Quali sono i progetti che avete avviato? Noi crediamo molto che in questa arena non vince il più grande ma vince il più veloce e per questo lavoriamo molto con le start-up perché riteniamo che sia una contaminazione vincente per entrambi. Abbiamo investito più di 5 milioni di euro, abbiamo partecipato a Campus Party con due hackathon, abbiamo creato un incubatore interno AXA, un innovation hub dove abbiamo lavorato insieme interni e persone provenienti dal mondo delle start-up per creare delle nuove idee da portare poi al mondo esterno. Grazie. 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 Grazie.